Il candidato Zed ha accusato me di essere del PD, a parte che ero del PD, sono guarito. Andiamo oggi in testo, questo è uno che prima è andato in scuola, ero malato, quando ero nel PD ero malato, adesso sono guarito. Bene, ed è guarito a Minasati. Ecco, noi scriviamo la ferro in una domona clinica. Se vogliamo riprendere a contare qualcosa, non c'è che a livello regionale. Questo pensiero è stata la mia terapia della malattia famosa. Questo è, e vi invito veramente a ragionare chi ha avuto quella malattia, chi ha pensato per tanto tempo che un partito di profilo regionale non fosse adatto ad agire in questo mondo. È l'unica strada che ci rima, l'unica. Questa è la mia terapia, che ha funzionato. Grazie. 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 Grazie.